Bisogna rialfabetizzare sull'agricoltura, vuol dire che come veniva negli anni 50-60 a insegnare a leggere e scrivere i contadini qua, nelle stesse scuole bisogna insegnare i ragazzi di città a fare i contadini. Se tu vuoi fare un progetto, vuoi fare l'apicoltore, ti faccio un corso di sei mesi e ti do di partenza 700 euro al mese per partire con la tua attività, così ripopoli le montagne, le colline, fai partire un'economia di prodotti di qualità fatti bene, che la gente cerca adesso in maniera particolare e rimetti in moto tu una società che al momento è morta e in più anche salvi il paesaggio.